TELEDURRUTI, TELE, RADIO, CESSU ESTATE, IL MARCHESE FULVIO ABBATI. Il figlio del presidente napoletano Giulio, che è praticamente pantografato dalla faccia del padre, ne hanno pantografato anche, diciamo, l'ambizione, andrà a fare il consulente presso la Federazione Italiana Gioco Calcio. A questo punto il Marchese Fulvio Abate vuole esserci pure lui. Che cazzo? Cosa potrebbe andare a fare lì il Marchese Fulvio Abate? Ce l'ho l'idea. Voglio andare a fare il cane puliziotto. Capito? A bordo campo, all'Olimpico. Tribuna Autorità, Giulio Napolitano, e io, Marchese Fulvio Abate, cane puliziotto. No? Che bisogna dire rispetto a tutto questo? Eh? Cane puliziotto che improvvisamente spicca un salto e arriva fino a in Tribuna Autorità. E poi te lo so dire, che vado a fare in Tribuna Autorità. Cane puliziotto. Tele Radio c'è su estate. Il Marchese Fulvio Abate. Qui, su Tenedorruti. Oh, la cartigenica c'è, perché ogni volta mi fanno notare.